Sì, perché quando ti cammini, ti devi stare attento al muscolo, perché se ti tiri, ti fai male, ti strappi, ti strappi le fibre. Mi, oi, mi, 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 amo la natura, oi, e bisogna che ti rispetti. Dai, dammi un euro. Sbordo, te che avresti tutto bene, ma che culo che aveva qui e là, in morti. Ehi, hai, 80 euros, 80 euros, waraid. Ah, sti turisti di merda, non mi poteva star a casa. Mi morti, che figo che so. No, mi dispiace, signora, non c'è più posto, devo aspettare il prossimo. Qui da terra ferma, non ho capito un cazzo. Excuse me, how much for spritz? 80 euros. Oh, amore, quanto vado a darti per spritz? 1,50 euro, amore. Oh, amore. Grazie a tutti.